5 milioni adesso 5 milioni? Ma perché le ha dieta? No, continuiamo a tenerla a dieta Ecco la borsettina La borsettina, perché? Perché dentro la borsettina c'è una piccola sorpresina Ah sì? Non soffenderà, vero? Chissà 5 milioni? Sì, sì, sì Quando una è sbronza non dovrebbe vedere doppio? No, 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 sono 5 milioni E io invece voglio vedere doppio Eh, eh, ho capito Facciamo 10, eh? Il doppio Eh, bisogna proprio dire che...